morto slanto da qua da me morti 2b morti 3b morti 4b dove l'altro? dove l'altro? dove l'altro? lo voglio ti pensiamo noi barca tranquillo tranquillo ci penso io barca a te oh ma chi è che mi bodyblocca? è stato qualcuno appena ci siete lo s***** male questa morto? non posso avanzare per window mi dispiace back side back side che gesto ragazzi morto? 104 sinistra manca un solo nemico questo l'ho fatto 100 una matta l'ho fatto era qui phoenix a me? esplosivi lanciati ok fuori 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 è mid non ce la fa non ce la fa non ce la fa non ce la fa si è tolto quel dardo sono barattolo dell'urina dopo il d'orci dopo il d'orci purtroppo sto gioca così va papi tieni la bomba io vado compiti io vado compiti vado compiti ahhhh col pompa vai ed esplosivi morta morta o devo fare esplosivi lanciati esplosivi lanciati esplosivi lanciati esplosivi lanciati vinto una ghia se ce l'hai no non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ho vita io non ce l'ho che sali là sopra no però dopo ti spiego bene la legge mi piace mi curi mi sono raga ve lo giuro a un hp ma ne infessibile non sono stato ma c'era stata curata 445 dunque abrimo 74fx si sta prendendo bene oh phoenix beat eh non lo sapevo io non avevo idea era window non lo sapevo ragazzi ma io l'ho detto è il fanto la bomba pure andiamina scusami rally che c'è la bomba qua in teoria vado long rally ragazzo ragazzo a me rally non sto poco piccando niente a 0-0 solo long io sto sotto window solo non picco nulo non vanno però zitto zitto l'ulto la window smocco pure l'annya riusciamo lasciamo stare ditelo voi conosciamo io ho fatto 70 nessuno era backside sì perché l'ha fatta più verso dietro vieni della bomba va incisto energetico ulti e tutto faccio tutto il muro di rally è window uno io l'ho ammazzato ragazzi uno deve sempre stare dietro per forza tanto non ce l'ho la spike ah ma c'era il muro a destra ma quindi avevamo fatto la stracca tanto dato il tempo l'abbiamo da perdere la testa ok mi pushano qui ok ok metto l'ansimo qui dovrebbe servire per dopo a dire il vero morto sage entriamo su b c'è il muro di rally non ce l'ho è in b questo qua questo fa solo hs te l'ho detto te l'ho detto puoi restare tu in casa dovete correre dovete correre dovete correre b vai che cagli tu la bomba era lui in b era lui in b eh eh lo so va bene vai dietro vai dietro vai dietro vai dietro vai dietro vai dietro ammazzarlo mi sa mamma mia pd mamma mia ok con la ulti ok sei già bussato l'u al b allora la lasciamo stare l'u al b non d'rC l'u al b 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 è morto io morto un altro morto un altro l'u al b double 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 col giro mi sattendo oh 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 dove l'ultimo no volevo dai barca si ok a non ci sono io questo arriva da short perché nessuno ha preso quel picco è morto è morto è morto eccolo poi morto 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 sono c'è l'arma c'è la mia terra c'è la bomba a window è window, è window, è window potete filarmi l'altra arma è window, marty sali dovresti avere la jet è da fuori da voldoor come che di nuovo da voldoor? la slow stavolta la slow stavolta lascio b lascio b lascio b c'è sta phoenix sempre long c'è chi la copre? eh sono morto l'ho anche detto c'era la religion la bomba c'è la religion la bomba questo è il muro che sta in long lui è andato da religion vai in basso vai in basso tu, fai il giro, vai da religion sono flashato sono flashato pure a me chiamamela la flash però c di nuovo o b o c vori santa verso b mi sa ah no vai d'accordo è entrato morto è entrato è entrato, c'è 78 eh forse e' c'è raga uno è l'hond morta hai la cura? Io esco in modo di ultimo Non mi interessa Le vado a vedere lì Long dove? A destra sicura Morto? Meno male Dai Ma è su Discord Sei PD? Sì Ok è long C2 raga Non ci credo dai Entrano inside questi Entrano inside questi Ho la smoke ma sei fazzito Uno morto È long raga Ah no è qua c'è l'energetico Lo smoke Ho smoccato long Prova a spuntare No ma era già prima Era morto Vai mura e splantate Vai uno splanta vai Manca un uomo Vabbè sono boss Sono boss Sono boss Hai visto? Non ce l'ha sentata No Hai visto? Hai piccato Dumbledore Mi ha visto pure Mi sa che entrano Mi sa che entrano Dumbledore Sì 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 L'ho visto che saliva Sì 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 Sage ha fermato Tutto B Gente B anche Gente B anche Morto Slanda da qua da me Morti 2B Morti 3B Morti 4B Dove è l'altro? Dove è l'altro? Dove è l'altro? Lo voglio Non lo so Non lo so Eh io non voglio Ero morto Arrivo Ci penso io Ok niente Ho 72 Va bene Basta scherzare Ora muori Tilo l'ho in basso Tilo l'ho Ecco Ah peccato Ma strike Ce la fatevi per me? No no Non ce la facevo Ero a metà Non lo so Non ce l'ho Dumbledore di nuovo Ok Brinson Long C Tutti in Dumbledore Bravo Bravo Dopo il clinio Non vinciamo questo round Eh non possiamo saltare lì Hai la cura Ecco Me l'ha spottato Andate Tutti insieme No No Non andate Non andate Sound Io controllo il nostro city Arriva qua questo Arriva qua da me Sono energetico Sì Arrivo Puro me l'ha messo 30 secondi rimasto Ho fatto il fake Mi servono pezzi Fuori dai piedi No vabbè Arrivano da me Arrivano da me È in area lì Sì 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 Pesante Pesante Ma come ho mirato Non so Prendilo 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 Brimson Ho visto Basta Forse Di Sei già salvato B Dai Dai Sto piangendo Raga Volevo andare Per le 40 Cioè io ho fatto 140 di ulti Peccato GG Bella 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 Tutto ok Tutto ok Vittoria De difensore Amaziamo Nicero Raga Ciao Ti Grazie a tutti